Il sistema delle aree protette sarà valorizzato in vista dell'Expo 2015, così come il parco regionale Velino Sirente, la cui legge di riforma è in itinere, subirà un taglio cospicuo nella composizione del Consiglio di Amministrazione. E' quanto emerso questa mattina dal vertice organizzato dall'assessore Donato Di Matteo, che ha convocato tutto il sistema dei parchi nazionali, regionali e delle riserve per puntualizzare alcuni aspetti di ordine alla legge di riforma dell'unico parco regionale e per rilanciare le aree protette. Vogliamo costruire una rete tra le riserve per mettere in piedi un sistema che abbia una capacità di approvvigionamento di risorse più adeguato, abbia la capacità di promozione più adeguata e abbia anche una capacità di organizzazione in termini di personale e di strutturazione del sistema delle reti delle riserve più adeguata. C'è poi tutta un'esigenza di costruire anche un sistema editoriale, promozionale all'interno delle riserve che permetta di diffondere meglio tutto ciò che di particolare c'è. C'è anche un sistema di ricerca da realizzare perché in alcune riserve si stanno facendo delle ricerche di alcuni prodotti tipo nel campo enologico, vitigni particolari di vecchia tradizione del nostro territorio. Tutto questo può rappresentare degli aspetti peculiari su cui bisogna tenere le dovute considerazioni.